Omerco alle dita leonesse il prossimo 28 settembre perché allo stadio mercante di Bassano scenderanno in campo le ragazze delle agguerritissime formazioni di Serie A del Brescia e del Verona Calcio per aggiudicarsi la Supercoppa Nazionale Femminile edizione 2016. Alle 16.30 ingresso libero le due migliori squadre italiane di calcio si affronteranno proprio a Bassano. Come mai è stata scelta proprio a Bassano? È stata voluta a fin fine dal Femminile Bassano, anche la divisione regionale femminile che ci ha dato una grossa mano per portare questo grande evento a Bassano. Come vedono soprattutto le giovani, come è visto il calcio femminile nel nostro territorio? Diciamo che prevalgono gli altri sport ma forse molte volte perché c'è una questione di sentito dire che il calcio è violento, invece è sempre squadra, è sempre società, è sempre il bello del calcio è questo e quindi perché no non farlo al femminile. E anche in questo caso sport e sociale vanno a braccetto, visto che la manifestazione sostiene la lotta alla violenza sulle donne. Abbiamo la piaga del femminicidio e della violenza sulle donne, su cui la regione è molto impegnata con la famosa legge regionale del 2013, con lo stanziamento di 400.000 euro e con 42 centri antiviolenza, case di primo livello, case rifugio, diffuse in tutto il Veneto. Una rete molto importante e una regione che ha già fatto tanto, anche questo bisogna dirlo grazie all'associazionismo, al volontariato e a tutto il mondo che fa capo al terzo settore.